www.feyyaz.tv Feyyaz.tv 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 Allora avete dato tutto però non è bastato, loro forse i più forti su tre incontri durante l'anno che hanno battuto tutte tre volte quindi onore a loro. Sì, quello senza dubbio, l'onore agli avversari va dato, squadra organizzata, tecnica, rapida e quant'altro. Però abbiamo gestito male noi le nostre forze, le nostre energie, i nostri cambi e questo ha condizionato tanto la gara. Gli ultimi cinque minuti c'erano tre giocatori fuori, l'importante che magari la partita la risolvono, come si è visto. Però vabbè, finito il torneo, speravamo di arrivare in finale quest'anno, non ce l'abbiamo fatta, vabbè ci riproveremo. Ci è mancato veramente poco, è un grande secondo tempo comunque. Sì, quello sì, almeno abbiamo tirato fuori il cuore. Chi ha dato ha dato, questi sono i frutti. E chi ha avuto ha avuto. E chi ha avuto ha avuto. Ciao, grazie. Allora, grande vittoria contro una bella squadra, voi sempre in vantaggio, però avete sofferto. Sì, abbiamo sofferto, però oggi finalmente abbiamo giocato da squadra, tutti. Abbiamo corso, gli avversari sapevamo che non erano quelli che abbiamo incontrato nel girone. Oggi però ce l'ha meritato, secondo me, dobbiamo avere paura solo di noi stessi, perché se corriamo siamo bravi. Se corriete giocate uniti, perché abbiamo lottato questo. Oggi l'avamo organizzato, oggi è la prima partita che abbiamo giocato da squadra. Anche perché abbiamo preso una battosta, che forse ha fatto bene. Che forse ha fatto bene, se no ce ne prendevamo altri sette, se non perdavamo giovedì, poi andavamo oggi. Esatto. E adesso basta, ce la giochiamo contro una squadra. Forte, stanno venuti a sedare gli avversari. Prima avete visto. Avete visto. Sono molto organizzati, sono le squadre che soffriamo di più noi. Beh, siamo arrivati alla fine, quindi per forza, dai. Siamo arrivati alla fine, quindi per forza, sono forti per forza. Adesso finale delle finali. Staremo a vedere giovedì. Speriamo. In bocca al lupo. Ciao.